Questo è un momento cruciale per la Repubblica. Il cappello bianco di Vittorio, dall'esperienza delle capre, la cosa è questa, non c'è fretta, è inutile chiedere ai cittadini che ci devono dire frega niente. Noi siamo bene qui, ogni sera una cena, io direi che possiamo votare il 14 febbraio. E' inutile per correre, cerchiamo dei nomi, evocciamo qualcuno, evocciamo delle termini, prudenza, lenti. Rivotriamo Pianasso, non c'è nessuna fretta, dovete votare draghi. Pianasso, per 25 giorni ci sono 25 ceni e 25 riugno. E' anche qualche giorno. Cioè deve essere un voto ponderato. Pensa nel tuo, costruito giorno per giorno, mattone per mattone. Non cercare di fare in fretta per non dare conto a che c'è. Magari, se si costruisce in fretta. Puoi riscari di cadere. E' proprio no. Mi sembra che era un piaccio. Ma santo, non c'è nessuna cosa. Una cosa che devo chiedere. A questo punto. La mia caramanzia. Se giorno. Il 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 giorno. Grazie a tutti.